buongiorno a tutti ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio laboratorio e nel mio canale allora oggi parleremo di questo set di chiavi a bussola 3 in 1 della power fix e l'ho comprato questa mattina 17 ottobre del 2019 auguri mamma oggi è il compleanno di mia madre 17 ottobre quindi auguri mamma e allora però non mi dico quanti anni fa se no me le dà allora questa chiave a bussola a tre funzioni quindi è una chiave che ci permette di essere utilizzata a ricchetto con i bulloni passanti di essere una giratubo oppure la classica chiave regolabile come questo tipo di qua però questa nasconde alcuni piccoli segreti è una tre in uno studiata bene da quello che sembra che riesce a risolvere tanti piccoli impedimenti che spesso si presentano all'interno del nostro laboratorio costa 17 euro e 99 sono 11 pezzi in totale quindi 10 bussole più la chiave la stessa chiave però la vedete così ma riesce a trasformarsi a diventare appunto una giratubo vi faccio vedere subito come funziona la proviamo facciamo un piccolo test della qualità ovviamente anche nella modalità di utilizzo di questa chiave cominciamo subito questa è la confezione tagliamo subito il cartone che la protegge ma è fatteggiato ma possiamo tagliarla tranquillamente strappandola l'importante è che vi ricordiate che all'interno c'è questa sorta di istruzione che vi spiega l'utilizzo che intuitivo però è giusto che essendo scritto comunque lo consultate anche per togliervi qualche dubbio e allora sulla parte posteriore della confezione si è scritta che è ideale per filetti bulloni passanti e barre filettate è una chiave inglese con anello cricchetto integrato è commutabile a destra e a sinistra è una ganascia dentata invertibile per i lavori di avvitamento poi ci sono 10 chiavi a bussola appunto che vanno da 10 a 19 in totale 11 pezzi la lunghezza totale dell'utensile di circa 20 centimetri allora vediamo da vicino il prodotto tagliamo la fascetta e allora questa è la nostra chiave inglese è la classica chiave a rullino per capirci quindi si apre ruotando questa vita che ha un passo infinito e ci permette di svitare e abitare bulloni di qualunque dimensione vediamola però sul campo e intanto è costruita davvero bene pesante fatta bene come finitura mi piace poi qua a questa scala graduata come abbiamo visto con la misura sia in millimetri che in pollici quindi questo ci aiuta tantissimo perché arriva fino a un pollice passando per un quarto mezzo e tre quarti di pollice quindi davvero molto comoda questa parte con il cricchetto che ci permette di lavorare da un lato e dall'altro possiamo usare il selettore che è quello che ci serve per impostare la nel senso della rotazione all'interno di questo cricchetto abbiamo una fascia che tende a stringersi mentre sulla bussola abbiamo questa insenatura che possiamo vedere qua bussole che sono fatte davvero bene a mio parere e che si incastrano a perfezione perché la fascia le mantiene in sede quindi non cadranno mai perché sono bloccate appunto dalla stessa fascia è possibile inserirle da un lato e dall'altro quindi davvero un'ottima cosa questa è la classica chiave a rullino quindi ci permette di lavorare su diverse misure passando con sola rotazione dello stesso rullino da una misura come questa di qua che la classica 13 ad una 17 in un istante basta ruotarlo ovviamente si lavora in questo modo io per questione di spazio non riesco a muovermi bene oppure misure davvero piccolissime come questa che altrimenti non potremmo assolutamente svitare ve lo faccio vedere in questo modo perché si vede meglio riesce tranquillamente a ruotarla avvitare e svitare qualunque tipo di misura grandi e piccole ha un minimo di gioco in realtà questo gioco delle ganache sarebbe meglio se non ci fosse però soprattutto non deve esserci in avanti e indietro questo è forse un po oltre il limite tollerabile però solitamente a questo tipo di gioco ce l'hanno potute ne ho un paio di marca non eccellente però comprato al brico che comunque presentano un minimo di gioco allora perché preferire questo tipo di chiave per lavorare sui bulloni possiamo appunto scegliere la misura in un attimo possiamo lavorare con viti come questa qua che è una vita farfalla quindi in qualunque momento possiamo raggiungere punti anche difficili anche in profondità in qualunque posizione possiamo riuscire a ruotarlo perché questa pinza questa chiave diventa diventa quasi una pinza non ha necessità di essere stretta quindi afferra la parte che deve ruotare e riusciamo a lavorare tranquillamente in qualunque posizione posizione classica con cui si utilizzano tutte le chiave inglese oppure anche inclinato in qualunque punto riusciamo a lavorarci questa è una qualità ma possiamo anche stringere dei delle viti che in realtà altrimenti non riusciremmo a fare se no con una pinza possibilmente anche rovinandole o con la pinza che potrebbe slittarci quindi questa è un tipo di vite nella zona centrale c'è questa zona più piatta appunto che va afferrata e va stretta se noi dovessimo stringerla non avendo il la pinza della misura adatta perché solitamente le pinze hanno una ganascia più larga quindi non riusciamo a farla entrare all'interno dello spazio quindi con la pinza slitterebbe perché afferra la zona tonda con questa invece riusciamo tranquillamente a farla entrare nella zona specifica poi ruotare ed abitare senza problemi questo per quello che riguarda quindi l'utilizzo della parte col rullino quindi la chiave inglese è regolabile al nostro piacimento ma vediamo adesso la bussola perché non utilizzare la classica bussola per svitare e abitare i bulloni questa bussola la bussola in dotazione questa è una classica bussola anche della lidl però l'interno come vedete in questa ci permette di poterla posizionare il nostro piacimento muovendola di poco sul bullone questa invece è la classica bussola con la forma del bullone che se non dovesse andare bene in questa posizione ci costringe a spostare di molto la nostra chiave per raggiungere la posizione corretta questa proprio per la forma e la caratteristica che abbassa ruotarla di pochissimo quindi riusciamo a colpo sicuro posizionando la bussola a trovare il posizionamento corretto del bullone e a lavorare praticamente subito un'altra differenza tra questo tipo di bussola e questa è quella che ci permette di lavorare su bulloni passanti infatti con questa riesco a raggiungere attraversando tutto alla filettatura la base e lavorare con questa di qua invece non riuscirei assolutamente a raggiungere la parte bassa quindi diciamo che questo tipo di chiave oltre che permetterci di lavorare in questo modo se dovessimo avere necessità di lavorare su barre filettate su altre parti in cui è previsto che debba passare tutta la filettatura come nel caso in cui dovessimo utilizzare un dato e contro il dato su una barra filettata per poter stringere bene o una costruzione che preveda una barra filettata con dei ripiani bloccati con i bulloni con questo tipo di chiave possiamo attraversarla tutta e lavorare serenamente se avessimo per esempio un bullone come questo qua che è un bullone 24 con le bustole in dotazione non riusciremo a farlo abbiamo bisogno di una bussola abbastanza grande e non tutti spesso abbiamo queste bussole a portata di mano con questa chiave invece l'allarghiamo riusciamo a lavorare sia su questa che su bussole che subito bullone addirittura fino a 30 mm quindi abbastanza comodo diciamo molto versatile e all'interno del laboratorio poi una parte davvero molto interessante è questa questa è anche una gira tubi perché se noi allarghiamo tutto quindi giriamo il rullino e la invertiamo di posizione avvitandolo questa si trasforma in una gira tubi che funziona davvero molto bene allora vi faccio vedere una cosa stringerò questo tubo con questa pinza ho messo questo nastro con questi puntini per farvi notare bene la rotazione dello stesso non è necessario stringere il rullino per stringere il tubo basterà semplicemente vista la forma conica inserirlo in questo modo è ruotare come vedete ruota in maniera perfetta sto stringendo tant'è che si sfila si graffia tutta la parte dove c'è la pinza rimuovendo anche del materiale e graffiando lo stesso tubo il tubo che rimane perfettamente incastrato ma anche la chiave stessa rimane perfettamente incastrata basta poi un semplice movimento e si libera quindi possiamo stringere al nostro piacimento eventuali tubi per lavori da aulici eccetera guardate come lavora bene sono davvero entusiasta di questo tipo di chiave non immaginavo che potesse lavorare così bene anche urtando la riesce anche scuotendo la rimanere perfettamente attaccata al tubo quindi devo dire che su questo funziona anche bene abbiamo quindi tre funzioni in uno giratubi cricchetto per bulloni passanti la possibilità di svitare abitare forme di qualunque tipo dalla chiave a farfalla a situazioni come questo come l'impugnatura per esempio del trapano a colonna che si stringe allo stesso modo e poi ovviamente la giratubi e la chiave a rullino per stringere a qualunque tipo di bullone di qualunque misura fino a 30 mm costruita davvero bene mi sembra è anche bella da vedere mi sembra di avere fatto per fortuna un buon acquisto con 17 euro e 99 e allora ragazzi cosa dire di questa chiave io sono davvero contento perché mi sembra che funzioni bene la qualità è pure apprezzabile certo non sono prodotti professionali però comunque mi sembra che lavori bene all'interno di un laboratorio anche se io questa me la porterò a casa perché ho necessità di una chiave cricchetto una di queste appesa lo stanzino che vi ho fatto vedere un paio di volte mi risolverà davvero tantissimi problemi perché è davvero molto 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 comoda e cosa dire se la trovate ancora avevate i dubbi sul suo funzionamento sulla sua qualità credetemi che vi soddisferà quindi acquistate eventualmente e basta detto questo non mi resta che salutarvi ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo darvi appuntamento ai prossimi caricamenti e ricordatevi però di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto l'avete ritenuto utile iscrivetevi al mio canale cliccate sulla campanella qua sotto per attivare le notifiche e vi do appuntamento a miei prossimi video ciao da riccardo e a presto